musica 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 chaibro50 dentro l'ufficio si sbrega ancora la mail chaibro chaibro ega quanto hai risposto zero ora ho messo su spammers utenti bannabili ora ho messo in loop una mail ogni minuto mi mando una mail chaibro neanche ricevi per i miei mail fai video su youtube fai visual e fai escape si e signori mi dai il link c'è proprio ancora più escape ciao iscritti ma se fossi dei giants ti avrei per un canale cioè d'ora fai zugo ti senti guadagnare escape grazie a zugo che l'ha fatto d'ora con quattro persone che si aiutano si e perciò ma l'uomo di merda ed è l'imprenditoriale ed è il mondo dell'imprenditorialità questo fai culo 20 ore al giorno e ti fai un video e ti metti su youtube e gli sconto e ti fai anche su quello su agri agri protesta veramente mi mette il bannare al canale eh comunque altro spoiler utilizzate il mio link per acquistare delle lecce alpino grazie mille ciao in cambio mi darà un negro questa parte da taglio in cambio me lo mette nel tuo po' ma che schifo a casa se li fa importare asport è una cantina piena dico si porto via col autobus se poi potei è come una volta che scondeva gli apri sono cantini eh esatto se devi fare la stessa domanda aiii ma che schifo aiii come mai abbiamo il piccante il gel adesso chong dai chong dai dai vado a fare copertini dai 3 fare copertini come se ah 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 copertini tanta roba e palle 10,9 dai capottati super campo dai 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 cosa dobbiamo dai 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 doi secondi no non è amesso non è amesso non è amesso d'esservi ad briosi siamo all intere con la carta c'è non stiamo in briosi pure noi guarda che frutta sul gruppo ei marco Guidara che su quello sotto non sono la sopra e guarda angelo guardavo che c'era un cinese un po' con strambo ragazzi io posso avverti vai in figa ma sento la peccata eh io ho pensato cosa so dire as vero Marco è che si ha smesso di funzionare ma vieni insomma te capisco no va bene improvviso come sempre perché c'è l'app che impenna perché non mi scarica il baccai perché te che ecco la fermo lì metti L ho fatto subagalli porto via un souvenir qua dall'Italia ha dato un vecchieto gentile vado a vendere in altro paese qua se troppe tasse troppi controlli se giusto ti puoi fare che ti vengono il calderonio tanto ne manco sui qui queste piantine di marijuana questa è l'alba buona tu vedi le laghi questa è l'alba da un'altra parte questo non so se è l'alba figalo averla un po' poi ma ha tipo olia palmata questo è figalo non è leggermente fuori il calderonio si ma dico ti avevo usato un tratturino con un po' di leggero no io ho messo sono leggermente fuori il calderonio dai chiamata sai che il panino è il panino ho fatto il panino no 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 ti pray vorremmo dire che si era che c'era a scuolimento quel porco non comedian marco di gonfeno chiamata si è la tenuta di un sas Sì, ma guarda che è un trattore in teatro con tre assi, ma al minimo un novecento Ma in realtà che faria forse quel trattore lì Adesso arriva giusto un po' il digestore perché ti scarichi Sì, Marco bisogna fare le cose in maniera violenta Però mi non ho mai capito quel dump per lì perché se uno ha i colmi Dove che arriva la roba in teatro fin Eh, ma forse Cioè, ma dai, come si fa? No, penso che Se hai sento carichi delle ame liquido si apre anch'io Sì, no, no Sì, no, no Il distributore Possiamo vedere un Marco che fa il sito A me si deve mettere le mani su tronca biette Marco Guarda dove vai, no? Pensare a cosa lungo Sì, io sono anche i suoi santi, la roba, ho fatto lì No, sette, otto cento metri utili La resto è... Ma vai Sì, 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 sì Beh, no A otto sette Marco si è leggermente più in insilato, lo sai Grande buon dire Ah sì Nico, sei una brutta persona Ho di sempre a tutti Perché sono una brutta persona? Adesso dovrei parlare dei macchinari Che fa la persona del venti Dai, adesso vado a culo Cosa? Meglio processore che abbia mai fatto? Dio Ma cambia il computer a lavorare 3000 euro di pc mi ha tolto Che povero, se la buttassù Quindi, i nove Mi ho messo su perché l'ho fatto peccano L'ho visto Mi ho visto un giorno che pastimavo perché era lento Perché aveva quel PSV, ce l'ho detto, la ditta Dio buon E allora Mi fa Parola Mi hai messo a cambiare il computer Ti va bene? Ho detto, vedi ti E mi fa pensi Il cavolo Paverso non fai in auto che metti a due minuti Madonna E allora Mi fa anche le tue preferenze Ma ho detto, guarda Come quei ultimi Ti ho tolto E era un in sette Arriva lì il tecnico che ne fa il pc Mi ha fatto il preventivo 3000 euro di computer Di polo, i9 E... Scheda video quadra Perché vi ho fatto lì per i programmi 4000 euro Quindi è 1000 euro sulla scheda video I cofra Che amaca Buon, Guito Vai Ti avendo usato il mio computer No, Guito Quasi quasi Che cavolo, i9 da lavorare Mi ho portato a casa mia E il mio Esatto Ah ma sto pizzicando E era così Ah va tranquillo Ma se hai portato così Ma se hai portato così Mi ha portato a casa mia Io lo so Mamma Eh dai Che manco dentro i colori Fanno troppo che sei a posto Eh Mi penso che puoi giocare a farming e va bene Eh La quadra non so quanto vada bene No Esatto La quadra non è così ideale Per giocare Sarà mai Per programmi Eh ma te a vendi Ti ricompri una 1.6 Da 3.080 Ah beh Non so se basta 1 euro Ti fai una 30.80 Eh E' un vertico Per terra Sì Eh ma non vedo neanche che la scala Eh ma non vedo neanche che la scala Sicuramente Anche con la 6080 Già E' una cosa sia buona Non scarica Non scarica Non scarica Non scarica Ormai non scarica Nico perché parli sopra a terra Tasia Papa a culo Ma non scarica C'è la scala Sbocca Sbocca Si Aspetta E' minacciandoli di fargli tornare all'ufficio Ehm Ehm Andare che è Sommare a casa Dov'è vedito? Sì, e ora vedi da un'ara fan curvy che ha risposto No, mi fa che bisogna essere nella fascia bronzo Per poter avere le seriali per i DLC Però per raggiungere la fascia bronzo Dobbiamo aver dato il link a Asente Per comprare il DLC E mi il link non ho Eh, infatti Eh, non ha un cazzo di senso alla fine Eh, la tua dieta che ti va mandando, non è del bronzo? No, sì No, è benissimo, sono venduto Ah, un tocchettino alluminio No, il bronzo sì, per altre robe Tipo per download, oppure anche per... Fare bronzine per bilanciare Ancuna Dai, non stai pure in tutto Dai che fai per formare il coppia e così Dai, lui ti parla a... beh dai Dico, noi ma... Dico, non te, ma di testa Dai, non posso tutto Dai, ti arrivate Diamo, diamo, diamo Diamo, diamo Diamo, diamo Dai, ti arrivate su voi, ma che non ti sento Dai, io non ti sento E quando te la cera non fa niente Non sei come ti altri che fa casino Sembra un motore elettrico Questo è tutto uscibile, non ti senti più niente E' tutto uscibile Ah, non c'è più l'ebrezza di accendere una moto, vero, Nicco Ah, tassisti adesso, i ragazzi caglite le mani solo per via dei joysticks Se io con te vado a compiere in gara, io vado a farci la doccia con quei avaricini Ma che mi, quando ho chiesto le auto, farmi girare troppo al campo Appena venire la mia cucina mi diceva subito parte la doccia La persona spussa da gasolio, ha metto da farmi la doccia a mezz'ora Eh, e che non te hai un testa calda, e magari ti metti davanti a barmi No no, le auto mi ha già preso, fidate Che male ti metti qua maglietta bianca davanti a scarico e ti metti No no no, io voglio impisciare un milanino di testa calda da barmi amico, hai visto? Ma... Vedi che se due baioni e poi incastraici a fortuna? Eh, da ieri, non so perché Ma io ci sono messi in pinco Si, si sono inglobati insieme, se guardi bene, sono due balli insieme E con questo abbiamo concluso, grazie dell'attenzione e arrivederci le più Bella raga!